Buongiorno signori, buonasera cari amici Io sono leonesa da Venezia, benvenuti al case vecchie Palazzo Mocenigo, Palazzo Paparigo, Palalo Grande guarda là Ponte di Rialto, piazza San Marco, il ponte dei sospiri, teatro al felice Salute! Buongiorno signori, avanti cari amici Io sono leonesa da Venezia Io sono leonesa Libertà Salute! 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 Salute!